Un segnalatore acustico utilizzato in mare in presenza di nebbia o di un'altra nave fino agli anni 30-40 del Novecento, letteralmente per salvare le vite a bordo. Questo strumento che io ho trovato con degli amici della Sierra Antiquaria che me l'hanno portato è praticamente un importante reperto che veniva utilizzato in marina per la conoscenza della presenza delle navi quando c'era la nebbia fitta sia in alto mare che in basso che lungo le coste e che praticamente questa salvava le vite umane. È l'ultima novità arrivata al Mumec di Arezzo, ammirabile dunque nelle sale del Museo Aretino. Ogni marinaio che veniva incaricato di fare questo servizio di suonare aveva l'obbligo di suonarla 5 secondi ogni 90 secondi e quindi c'era un regolamento che poi era più fitto secondo la nebbia, secondo le cose e questo senso dell'acustica che era l'elemento di conoscenza della vicinanza di un altro mezzo nautico viene intanto dall'antichità, diciamo così, a voce che urlavano proprio per impedire l'affondamento della propria nave e è durato fino agli anni 30-40 del secolo passato fin tanto che non è arrivata poi la telecomunicazione, quella che noi siamo forti nella loro espressione storica con il wireless che a quel punto c'erano i sistemi radar, i sistemi di conduzione delle microonde che viaggiavano nello spazio che andavano a finire nei ricevitori, nei trasmettitori di ciascuna di questi navi quindi ecco che queste sono andate in disuso e oggi è difficilissimo trovarle perché anche i disarmi di queste navi che oramai sono finite da 50 anni